Sulle pagine del settimanale Chi, Paola Perego ha spiegato che quest'anno ha deciso di concedersi una lunga vacanza. È un modo per lei, di superare il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi, contestualmente alla chiusura di Parliamone Sabato. Sto tentando a fatica di ritornare alla vita da quel momento per me difficile, ma resterà sempre un episodio doloroso, inspiegabile e violento. E per la prima volta dopo tantissimi anni quest'anno farò una lunga vacanza, sono certa che questo mi aiuterà a recuperare una serenità che mi è stata strappata con violenza. Ha ribadito, inoltre, la convinzione di avere un marito scomodo e che spesso venga colpita lei, con l'unico scopo di ferire Lucio Presta. Che Lucio sia un obiettivo sensibile per la politica e per chi vuole attaccare la tv e sotto gli occhi di tutti, spesso hanno colpito me per ferire lui. Ma, se questo è un modo di proteggerlo e mostrare il mio amore per lui, sono felice di pagarne il prezzo. Dal canto loro, hanno basato l'educazione dei figli sull'amore e sul rispetto. Ci siamo fatti guidare dall'amore e abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli che su questo, e sul rispetto, verremo giudicati. Abbiamo avuto più di quanto potessimo sognare da bambini, questo ci rende felici e ci fa guardare avanti. I suoi fan avranno modo di rivederla presto in tv. Dopo lo scossone legato a Parliamone Sabatio, infatti, è ripreso il suo rapporto lavorativo con la Rai. Chi se ne frega.